io non dormo stanotte oddio chi è what the fuck is this ma che cosa raga che sta succedendo ma mi ha messo nel timore amico mentre manco sono riuscito a entrare non so se l'avete visto ragazzi in live hai presente quando inizia la partita e devi scegliere il personaggio la cosa è che non mi ha spuntato ero direttamente in base da nemici infatti mi dava tipo la diserzione e mi hanno ammazzato la oddio 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 da quanti siamo a giocare yes ok thing i killed in the mid time siamo a 7 contro 5 ok i need to take the vandal ok next life i will take the vandal which class said the vandal i don't remember right now ah so i need to switch team ah so i need to switch team vandal is the one with one bullet right if i remember correctly is on the well not great not terrible ok so i non con gli strungari ci davis vuole il vandal ok ok yeah because yeah because with this knife with this rifle it's really difficult if you miss the hood the shot you're basically dead nikki become italian yes the challenge is using the vandal so i need to use this rifle now don't be angry be better why not vertale very specifically ask for the vandal so i need to use this this rifle eh si ho dovuto switch perchè è l'unica l'unica fazione che ce l'ha l'unica fazione che ha questo fucile sono gli strungari platoni ah ma se switch se switch team ok there are only bots in this game oh i need to complete this challenge anymore so i will end the game with this with this rifle i don't like the german i like to be fair every faction has their good i like the history of your country i don't know i know i know i don't know much about the actual country so i can judge no i don't like him yeah it's a detector so it's like it's more or less like putin it's more or less like putin 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 is not nice tell that about the ukrainian i don't think they agreed i agree i agree with that but the ukrainian is not the zelenski more like the turkish is not erdogan if you know what i mean i don't think i don't think like the they're they're going i don't think that would be Chi ha detto che è Hitler? Ah, è turkish Ho capito solo che ce l'ha con Hitler, ma non ho capito il resto Putin mi vuoi Nikim, tu hai metto i with the Wendell Ok, ricordate come Ironside work Si, tu sei giusto, Duke Si Chi è questo? Ma quando? No Una volta qui si poteva scalare da sta finestra, non ti fanno saltare più da la finestra Peccato Parla Italiano, Wage Parla Italiano Speak Italian, Wage Speak Italian, it's a good language No, no, that's a scatmian, it's not Italian I'm a scatmian Fucile Fucili is rifles Fucile is rifle Nigeriano Nigeriano No, it's not Italian He's Turkish and he lives in Germany Am I right, Wage? He lives in the north side of Germany Germany and he's Turk Si Ok, Wage Ok, Wage Have a good night Bye 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 Ok No, I don't think he's in Berlin He's in the north side of Germany I don't know if I don't think he's in a big city But I didn't ask So I don't know Anyway, he goes to sleep So Let's play Molto parecchio Vabbè, un ragazzino è piccolo Da bambino Praticamente Si Ci sta che si è scoppiato Ehi, guarda Tutti i bambini Anche noi eravamo accelerati Alla solita Però che non ce lo ricordiamo I think I don't know Dino Dino Yei E lui è Dino Yei In realtà Che ha un nome Che si moltiplica Più lo ripeti A me mi ha acceso Yoyo Da Eh, io stavo difendendo Ma col Weldon È abbastanza difficile Perché un colpo Devi ricaricare Teodosio Scusi, lei Mi sa dire che ora sono? Questa è in estasi mistica Ragazzi Si starà alletrando Si starà alletrando? Siamo senza ufficiale Questa è la cosa strana Perché siamo 7 contro 7 Cazzo, sono senza niente Non mi avrete mai Che raga dai Ho fatto un massacro No, se vai a vedere Se vai a vedere Sulla mappa Boh Non so perché Forse per qualche motivo Ti aveva resettato La spawn Ci sono ancora Alcune meccaniche No, siamo di più Siamo 7 contro 6 Ci sono alcune meccaniche Che ancora Non mi sono molto chiare Che non vengono spiegate E' il piccadigno No Balls Oh e almeno vive in un mondo totalmente folle effettivamente scusami adesso che c'è la parete di sessi cos'è? come funziona? perché tecnicamente sì esatto è un po' strana come situazione sì è un fucile di merda questo è un monocolpo è un fucile antico però mi hanno lanciato la sfida e devo portarla avanti non l'ho scelta sto usando il cecchino con il Wendel è un fucile che ha un colpo solo e devi ricaricare ogni volta che spari cioè letteralmente devi mettere il proiettile singolarmente fucile di merda beh il problema è che se ci sono due nemici insieme ne ammazzi uno e l'altro ti ammazza perché si lo so però ho capito non è non mi va di giocare a 2000 km di distanza intanto sto piazzando perché può essere che magari lo dà al random proprio perché siamo senza ufficiali eh vabbè dai le skill servono dell'ufficiale contro questi nemici sicuramente no che sono in base da loro ho piazzato non frega un cazzo a nessuno che si non gliene frega letteralmente un cazzo che ok finalmente sono venuti a difendere stanno disinnescando ok l'hanno fermato madonna mia che che ah ecco chi era qua dovevi immaginare che eri tu il maniaco con la piccozza secondo me sto gioco avrà ci siamo fatti qualche fama malefica tipo noi due di essere tipo dei pazzi no dei dei psicopatici totali che bello fare i kill con la dinamita ma secondo me avrà secondo me avranno roseccato con la quando abbiamo giocato con i coltelli ci saranno venuti il fegato bruciato officer balls vabbè siamo anche senza nemici ne sono 4 dall'altro lato mischini there's no enemies in their team it's a sad game cazzo già sono le 11 e già ci sono più giocatori oh hanno cambiato server che cosa appena finiamo vediamo se sono nell'altro server magari che pare è strano che non ci sia nessuno mi ha chiesto come mai stai giocando la piccozza mi ha chiesto come mai stai giocando la piccozza come mai stai giocando con la piccozza come mai stai giocando con la piccozza mi ha chiesto come mai stai giocando la piccozza mi ha chiesto come mai stai giocando la piccozza tranne in quelle partite quando si mette nelle partite dove c'è il mitragliatore diventa una rottura di balle allucinante mi ha chiesto come mai stai giocando la piccozza mi ha chiesto di tesoro qua uno stronzo che mi ha sparato l'ho trovato vabbè io tengo l'ho che devo fare che partita triste c'è un fucile penso di epoca napoleonica quasi si praticamente non mi stupire se ai tempi gli italiani avevano in dotazione anche quel tipo di fucile perché non avevamo niente tipo di produzione non plus ultra dell'arma il fucile napoleonico ma ancora mi sta massacrando sto bot e mi uccide sempre non mi stupire sempre non mi stupire sempre non mi stupire sempre ho un'antem national ho un'antem national poveraccio l'unico giocatore della partita l'ho ammazzato no alfa no alfa no alfa afro vero può essere anche afro asiatico che ne sappiamo esistono esamore degli afro asiatici ci voglia soltanto 12 anni per ricaricare questo fucile è uscito sop ho ucciso l'uomo saponetta riloro nooo piccozza man mi ha ucciso tim con la piccozza ma è morto a sua volta siamo sei contro cinque tutti morti tutti morti andiamo lasagna dobbiamo conquistare quella valle qua ci faremo un bel resort tre stelle una volta che lo conquistiamo ci facciamo un bel resort tre stelle oh no mi ha ucciso di nuovo tim con la piccozza sta andando wild con quella piccozza disegno di giocare a daylight ma guarda non ne sento proprio il bisogno di silver è bello daylight ma credo che si è avanzato verso la nostra base ma non so se l'hanno ucciso nel ventress da facendo tanto sparare ma ne ho perso il bonus della garanzia giovane ma io non l'ho mai avuta non l'ho mai avuta no io manco ce l'ho io ma se manco io manco l'ho fatto che cosa era la carta giovane ah ok ah io uso telegram si vabbè i bonus di stato a volte sono delle cazzate assurde ti fanno spendere più soldi di quelle che ti fanno risparmiare abbiamo vinto io ho fatto 36 uccisioni con un fucile di merda miglior punteggio obiettivo vabbè eravamo in due letteralmente miglior punteggio tiratore miglior punteggio obiettivo maggiore numero di uccisioni maggiore numero di uccisioni dello stesso giocatore maggiore numero di uccisioni da granata ma io non ho stato le granate ma non ho mai sotto neanche una bomba a mano com'è che ho fatto il maggiore numero di uccisioni da granata ma che... Ah, forse perché mi ha contatto l'esplosivo della base. Altitudine media più alta, maggior punteggio per aver eseguito gli oldini. Ok. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS